E rieccoci, e rieccoci, nuovamente, a distanza di cosa, non mi ricordo nemmeno, è qualche ora a questo punto, e Resident Evil Zero, penso che oggi si possa chiudere, ma puttanazza e pazza, mi sono cagato, intanto basso qui un attivino come sempre, perché mi partono le orecchie, allora, ah, come sempre, giusto, un saluto a YouTube del futuro ed un saluto Twitch ora, e detto questo, che cazzo stavamo facendo, Billy Atrio, eravamo qui, giusto, sì, e penso, penso fortemente che oggi si possa chiudere, forse, eh, ma non voglio di cagate però, Resident Evil Zero è abbastanza corto, come gioco, buongiorno, buongiorno, com'è, come la va, così, subito, di mattina, manca il tempo, oddio, qua ancora, oddio, come ho messo, oddio, sistemiamo qua un attimo, ok, com'è, com'è questa roba mattutina, un po' stordito, ci sta, ci sta, un po' rincoglionito la mattinata, ma ci sta, allora, qui intanto, via, come sempre, si caccia la roba, e, dalla palestra, dalla palestra, vedi, tu esci dalla palestra, io sto qua a, a combattere il male, allora, e, quindi, 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 sempre, mi scordo che cazzo si doveva fare, ragioniamo, ragionando, ragionando, dalla palestra, alle nove, ma quando ci sei andato, alle, alle cinque, alle sei, com'è che è, orario, orario easy, per andare in palestra, e, non mi farà sentire così, così inutile come essere, allora, ah, la chiave, la chiave comunque, c'era la chiave dell'istituto, quella blu, la chiave dell'istituto, quella blu, apre la porta, le porte, le porche blu, le porte blu, le porte blu, blu, le porte blu, che stavano, cazzo, la porta blu, la porta blu, la porta blu, porta blu, porta blu, porta blu, porta blu, sopra, 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 ok, perfetto, va bene, ci sto, va bene, dalla palestra comunque, così presto, culturisti, ma come cazzo si fa? Va, e, quindi, ai, silenzio intanto, ancora io sto prendo gli occhi, praticamente, ci sono, nella fase di, sono tra il rem e lo svegliarmi, hai usato la chiave dell'istituto, non hai più bisogno di questa chiave, gettarla via, e, sì, grazie, adesso, qui dentro, qui dentro, ci stava lo schifo, ma tu stai qua, ok, e, mo, lasciamoli Rebecca, con 12b, si entra qui dentro, e, se non mi ricordo male, si deve essere anche abbastanza veloci, qui, vediamo, tipo una roba, tipo, tipo così, così, non ha spazio, ah, ce l'ho, minchia, stavo, madonna, meno male, via, uno scambista, ok, perfetto, e questa è andata, la maniglia del morsetto, il morsetto della maniglia, il morsetto del maniglio, e, la porto, la porto, la porto, la porto, non sparare, va, il bar, il bar, location easy, simpatica, il pianoforte, ok, che cazzo si faceva? Dio che non ricordo, forse, 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 Billy, il pianoporte, il pianoporte, il pianoporte, il pianoporte, il pianoporte è ricoperto di polvere, ma sembra possibile suonarlo, suonare il pianoforte? Sì! E che cos'è, e che cos'è, Billy, si ricopre, si ricopre, niente, non si possono fare live di mattina, si riscopre artista, volevo dire, si ricopre, e allora, la porta sia porca sia aperta, quindi io direi, mandiamo Rebecca, sì, ricordo, Billy sta dentro, via, colpi di magnum, non avrei spazio, quindi non me lo posso affordare, non me lo posso permettere, un'altra bottiglia di Heineken, no, la batteria, batteria, astrobattery, batteria, questa ce la ficchiamo dove non batte, oh no, Billy, di nuovo, una canzone, via, sì, ahiai, sposto un attimo questa roba in modo da, ok, bravo, 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 ora possiamo rigrupparci e adesso c'è lo stronzo fuori, il piano, il piano sarebbe quello di, aspetta un attimo, perché c'è il pezzo di merda fuori che aspetta, mandare tutte e due non ne vale la pena, completamente, quindi l'idea sarebbe quella, oddio, ma quasi quasi, quasi quasi fare una cagata importante, del tipo, del tipo, Rebecca ha la pistola potenziata, Billy ha la pistola dei nerf, quei giocattoli praticamente, però ha il pompa, però ha il pompa. per cercare di gestire l'inventario nel modo più funzionale possibile, l'idea è quella di cacciare via la pistola, me ne potrei pentire in maniera atroce, ha famo sta stronzata, solo pompa, Billy, oddio, sono sempre assieme volendo, quindi non dovrebbe esserci sto, sto gran disagio, sto gran problema, ma sti cazzi e dagli i colpi a lei, va bene, dai, questa è una cagata, questa è una cagata, queste cose non si fanno, queste cose non si fanno, no, allora, ora il pensiero è, sto pensando, nel frattempo sto elaborando, perché qua c'è tutto un piano di azione che, fuori c'è il bastardo, il mimicry, il leech merdoso, combatterlo, è uno spreco di risorse, risorse schifoso, ho bisogno di prendere l'altra piastra, che sta poi nell'altra stanza, ah e te becca, fa sti movimenti un po', un po' sibillini, ehm, stai qui dentro, non ti muovere, vado solo, dovrebbe andare più o meno ok, come cosa, più o meno, è la, esattamente, è andata più o meno perfetta, Suka, mi chiama ha dovuto, non parole comunque, mi ha dovuto fare la presa comunque, interessante. Adesso, Billy sta ancora ok, perché Billy è un macho man, è perfetto, la piastra sta sopra, sotto sono risorse in questa porta, in questa porca, però se io riuscissi a farla pulita, del tipo, prendo la piastra, è andata più o meno come doveva, però non proprio come doveva, quindi va bene, e allora stanza zombie, io li evito, prendo il morsetto, lo infiliamo su per la morsettatrice, la marsiglia, la marsiglia del morsetto, la marsiglia, zicca, così si fa, perfetto, pia sta cosa, già li sento, pia sta cosa, però qui dentro, non è che c'erano colpi di, oh cazzo, stai calmo tu, io appena sveglio, oh L i colpi di fucile, ci stanno tutti, non so dove sei, ora ti vedo, fai qualcosa, bravo, madonna. Che cos'era questa manovra evasiva? Allora, presi i colpi di pompa, le risorse sotto, le risorse sotto, eh lui lo spazio ce l'ha, quindi se lo può permettere, le risorse sotto, qui ci stanno risorse, penso pure, spray medico, bello, 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 questo si prende, si sa mai, colpi di pistola per, ok ok, colpi di pistola per Rebecca, giusto, giusto, giustissimo, non giusto, di più, più di giusto. Si torna indietro Sta andando In maniera perfetta E mi fa quasi paura Ecco, detto Suga Ai ai Questi sono anni di esperienza Di esperienza, di esperienza Silenzio In aula Ritorniamo da lei Io vorrei far notare La posizione quasi Quasi incazzata Quasi Stanca di Rebecca Del tipo, ma ci hai messo tanto Giusto così Quindi I colpi vanno a lei Di pistola sempre Non fraintendiamo I colpi di pistola vanno a lei La batteria Vabbè, la tiene lei Me la richiamo pure Così Come on Roger E andiamo La pistola rimane là Va bene E via Manca solo una piastra Manca solo una piastra Cazzo Rebecca Rebecca Tutti e due l'ha fatto la combo No, finita Dramma Totale No, ok Madonna Stava andando in merda Come stiamo Meravigliosi Come sempre E c'era l'altra piastra Giusto Perché non gliel'avevo vista Prima Rebecca 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 tesoro Dov'è l'altra piastra? Cazzo Cazzo Forse Forse l'ho già messa? Forse l'avevo già messa? No, perché se non l'ho messa No, no L'ho messa L'ho messa L'ho messa No, perché se non l'avevo messa Erano Cazzi Violenti No, no, no L'ho messa Va bene Va bene Va bene No, no, no Calma Ancora è tutto Perfettamente Sotto controllo Calcolato Ok Quindi Si esce fuori Si, si Ok Bene E l'altra piastra Intanto Qua La battery Che forse Rebecca Te piazza sta roba Si Usare No Ok Cioè io potrei Speedrunnarlo Questo gio No, speedrunn Forse non siamo ancora A quei livelli Però La conoscenza E l'esperienza c'è Allora Billy Come sempre Lui è il macho man Quindi lui è quello Che spinge Le cose pesanti Vai Vai Levati dal cazzo Però Rebecca Il piacere me lo devi fare Grazie Ok Ne bebe Rebecca State lì Ok Grande I go along Hai capito Sposta 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 Sì Ok 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 Eh Come Di qua Eccola Si vede già sbrillucci Che cazzo Si è fermato Sul marciapiede Lì Sul Mi piacere Il pixel In mezzo In mezzo Sposta sta merda Sposta sta cosa Sposta sta cosa Il pixel Non gli piace il pixel Ora Ti piace? Ora lo sposta Minchia Va bene E si prende Questo L'ultima piastra Placca Plasca Plasca C'è qualcosa qui Placca della disciplina Bello 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 E Richiamiamo Rebecca Le placche sono due Va bene Va bene Va bene Ci sono Ci sono Bom Bom Ora si deve andare A piazzarle Ma che Prima di piazzarle Un salvataggino Di quelli Che non si sa mai Lo facciamo Tanto Di rullini Di nastri Non rullini Ne abbiamo Quindi Sti cazzi Ah era qua La placca L'avevo tirata a terra Va bene Ok Quindi C'è una macchina Da scrivere Salvare Sì Esperimento Del contenuto In corso Bom Sovrascrivere E via Ok Adesso Tre spazi Nell'inventario Da occupare 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 Per le placche Quindi Vabbè Questo lo buttiamo Va bene E va benissimo E abbiamo lo spazio Minchia La Perfection Quindi Saliamo Saliamo Allora Io switcherei a Billy Per un motivo Semplicissimo Ovvero Dove cazzo sto andando Di qua Si può Letteralmente Abusare Dov'è Rebecca Rebecca Ok Si può letteralmente Abusare Della meccanica Dello switch Del cambio Del personaggio E siccome Io sono Ehi Silenzio Siccome sono estremamente Tattico in questo Facciamo una cosa Tu stai lì In modo da non dover Buttare nemmeno un colpo Ora via Gli schifili Superi Ah Mo 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 Così La richiamiamo Guardate La magia La magia Rebecca è qui Senza l'utilizzo Di nemmeno un colpo Sploffete Ok E si va Il rampino No Il rampino sta qui ancora Ok Calma Ci caliamo Di sotto E mettiamo Le piastre Le placche Le piastre Le plasche Sempre Queste Quindi Via una Obbedienza Questa è Disciplina E l'ultima Egalité Fraternité Cos'era No Sbagliato contesto Levati Levati Billy Rebecca Ok Perfetto Questa Unità Ok E via Progressi Cazzo Il meccanismo Di quelli semplici Comunque Maria Un po' come alle scale Piace cambiare Ecco Va bene Via Ora sono cazzi Ora sono cazzi Ora sono cazzi Per un motivo Più o meno Semplice Perché Perché Allora lui Prende Quel maledettissimo Vergognosissimo Rampino Eccolo qua Sì Questa si è aperta Perfetto Tutto Nella Nella Cazzo di testa Sta Tutto E il rampino Realmente Lo vogliamo lasciare qua Lo vogliamo lasciare qui Ok E Domanda Domanda Perché ora c'è C'è l'ico De puta C'è un gran Ico De puta Quindi Andiamo Rebecca Oppure Mandiamo Billy Billy è più resistente Avrebbe più senso Chi ha E Facciamo sta roba Tieni per ora Tieni Scambiamo questo Rebecca La teniamo fuori Per motivi Per ora Io le lascerei Il pompa E andiamo Cazzo Mi sono perso No ok Così Va bene Va bene Va bene Va bene Nessuno ha un'arma in mano Va bene Cosa facciamo Ridiamo Alle merde Va bene Quella si è aperta Perché lei Ha messo i piedi Nella piattaforma Rebecca I piedi nella piattaforma Li devi tenere Il golem Perfetto Madonna E vado io Ora Ok Ai 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 Aia E Sì Minchia La madonna di Tindari E il boss No Non è lei Boh Ora vediamo Lo schifo C'è comunque Sempre piacevole Sempre piacevole Sentire questo Colpi di Granate Al Aplam Sì Il salvataggio Sì Tra l'altro Ci sono i colpi Di pompa Che a sto punto Io prendo Va bene Prendo anche questo E salvo Non c'era una volta Un Una volta Non c'era uno Spray medico Over here No Mi sono Me la sono messa Nel culo Ok Grande Grandissimo Macchina da scrivere Salviamo Spostiamo qua un attimo Ok Yes Ora per quello che c'è Per il boss che c'è a venire C'è un Una robetta Per Cercare di ucciderlo Nel modo più semplice possibile Ed indolore Però deve Deve Non devo fare la cagata Quindi vabbè 12 colpi dovrebbero essere Più che abbastanza Allora se non mi ricordo male Boh vediamo Vabbè Va bene Dai Va bene Potrebbe essere la cosa più semplice del mondo Come potrebbe diventare la cosa più Oscena Via Dipende da come lo Aia Da come lo becco Uno zoo Un cazzo di zoo Resident Evil Zero Uno zoo Passiamo dallo scorpione Passiamo da mister crab Al pipistrello Geneticamente modificato Aiuto Via Bella Qua Giusto L'ho cagata L'ho cagata Non l'ho bloccato nel punto Bene E' finita 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 Vola 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 La Maia Burubum Burubum E' finita E' finita Tragedia E' finita E' finita in tragedia Ok Ok L'ho bloccato Un grande suca si può dire Dire di si Ecco Doveva succedere questo Senza però Volare come la pe maia E' andata E' andata Giusto E' andata in maniera meravigliosa Si poteva evitare quel discorso Si poteva evitare Però Cazzo si è andata Va bene Sembra necessario Utilizzare qualcosa Per salire in alto Si Va bene Billy Ah va bene Va bene dai Va bene Ti ringrazio comunque Buon game Buon lavoro A questo punto Dai A questo punto si Che cazzo dovevo fare Che cazzo dovevo fare So scordato So scordato Ah no Eeeh Direi 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 Il rampino Il rampino serve più a Rebecca Che a Billy Si Il rampino serve più a Rebecca Che a Billy Quindi La cosa da fare E' la seguente Intanto a Billy Ridiamo Oddio Non so se voglio lasciare a Billy Eh la cosa si fa Crispy Si fa Crispy McBacon Abbastanza crispy Come situazione Allora diamo a Billy Il pompa Si Il pompa Oddio Forse era meglio Oddio Eeeh No vabbè Il pompa Ci sta Perché poi Questo lo daremo Lei a Rebecca Quei colpi Li lascia a Billy Tanto per Va là Eh va bene Brutto tattico Va bene No però Il cazzo Perché giustamente Diamo questa A Billy Dai Va bene Va bene Let's go Yeah Eeeh Rampino E via No ma via Che cosa Lui non può salire Sti cazzi Vabbè Cerchiamo di farla In maniera un po' Un po' sensata Un po' logic Quindi Usiamo questo Perché Ha fatto entrare Billy Sbagliato Non doveva entrare Billy Eh quindi Billy esce un attimino Yes Let's go Fatto uscire Billy Riprendiamo il controllo della signorina Della lady E scendiamo Ok Ascensore Caution L'interruttore sembra alimentare l'ascensore Azionare la leva Yes Ok L'erba rossa Può stare fresca La porta adesso è aperta Meno male Grande Aiai Aia Richiamiamo Billy E andiamo a questo punto Oddio Una botta clamorosa al microfono No no Scusami Perdonami Tutto ok Ok Qua questo Lo mettiamo un attimo Così Volà vola 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 L'ape Billy Burubum burubum Vola 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 L'ape Billy Vola 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 Sopra i trilli Ok Ok Salvataggio Sì Lui come è messo L'inventario Può salvare Va bene Quindi salviamo Levati Grazie Si salva A chi Biblioteca Lasciamo Il rullino Questo mi sa che poi lo devo pure lasciare Realmente Per ora lo lasciamo In mano gli lasciamo questo Rebecca deve andare con il rampino Sì No no Vabbè però deve andare con il rampino Però sto pensando Forse voglio Realmente Lasciare E' una roba importante Perché No lo dico più che altro Perché Giustamente No Per ora Per ora Lasciamo il mondo Com'è Ok Stiamo così Nota Diario di Marcus 2 Questa pagina è stata lacerata Non ci sono gravi motivi Di preoccuparsi Ma ho rinchiuso le mie piccole In una capsula speciale Purtroppo non posso tenerle con me Sarebbe troppo Potrebbe essere pericoloso Le nasconderò in quel posto Se vuoi nascondere una foglia Lasciala in una foresta Questa me la segno Ora me lo faccio come tatuaggio Nei in fronte me lo tatuo Per aprire la capsula E' necessario utilizzare il decolorante E non c'è pericolo Che gli uomini di Spencer Riescano a capire Come riuscirvi Perché sono stupidi O per altre ragioni You stay here Yup Quindi lui lo teniamo lì Rampiniamoci Su per il Pertugio Oh madonna Ok Ai 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 Eeeh Altra nota Yes Non il computer Non si accende alla pressione del pulsante Diario del direttore del laboratorio Oggi per ordine del direttore Marcus Ho dovuto cambiare il codice di accesso alla piattaforma Più tardi gli ho chiesto quale fosse la fonte del nuovo codice di accesso Mi ha risposto che si basa su qualcosa di particolarmente significativo Nella crescita dei suoi figli Ma il direttore è un tipo solitario Non è sposato e sono sicuro che non ha figli Che cosa avrà voluto dire? Le sue minchia di locu Non locustele Le sbastarde Oh no Le capsule brilla Puttana Ho sbagliato tutto Ho cannato più o meno tutto Cazzo Non avevo spazio Non inventario No ok 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 No cannato Cannato no Questo si deve premere Yes Eh questa zona è relativamente impestata da questi disgraziati Ma intanto uscirei qua fuori Qui Che teoricamente posso lasciare in maniera agevole il rampino Salvare no vabbè non è necessario per ora Quindi questo lo togliamo Sì Ecco perché potevo effettivamente lasciare E vabbè ma è troppo tante cose passano per il cervello Quindi non vanno Va bene Va bene così Silenzio Grandissima calma in tutto questo Allora il piano è quello di Prendere quella capsula Effettivamente Vabbè intanto la mappa Ok C'è da fare qualche giochetto No Ok se siamo abbastanza bravi Riusciamo a non farci colpire Va bene Va bene E' andata E' andata Ok Adesso Dopo questo pezzo di skill rara La capsulina La capsulina Il decolorante Giusto Devo fare il decolorante Ok Merda colpi di pompa Colpi di pompa Oh no Vabbè questi li devo portare a Tutta neva Me lo ricordavo pure Attenzione per sta cagata Ma per favore Rebecca No Vabbè Altra nota Sti cazzi Dati sulla crescita Dati sulla crescita Delle sanguisughe 3 febbraio 1978 Virus Somministrato a 4 Questo 4 in rosso E' abbastanza importante Sanguisughe L'istinto di sopravvivenza Le conduce ad un primo stadio Di parassitismo e aggressività In seguito Si riproducono E moltiplicano Tale tenacia biologica Ne fa esemplari perfetti Per la ricerca Nell'ambito Delle armi bioorganiche In seguito Non sono stati osservati I cambiamenti di rilievo 10 febbraio 1978 Sette giorni dopo La somministrazione Del virus T Rapida crescita Raddoppiamento Delle dimensioni Evidenti segni Di mutazione in atto Riproduzione prolifica Nel giro di un'ora Il loro numero raddoppia Ma un appetito insaziabile Le costringe al cannibalismo E' stata aumentata Repentinamente La quantità del cibo fornito Ma due esemplari Sono andati persi Sette marzo 1978 Fornite esche viventi Ma perdita Della metà degli esemplari A seguito Dei tentativi Di difesa delle esche Tuttavia Le sanguisughe Apprendono rapidamente E cominciano a sviluppare Metodi di attacco collettivo Stanno inoltre Abbandonando il cannibalismo La loro evoluzione Sta superando Di gran lunga Le attese 22 aprile 1978 Le sanguisughe Non mostrano più Alcun segno Di comportamento Individuale Anche quando Non si stanno nutrendo Si muovono in gruppo Divorano Qualsiasi cosa Venga a loro offerta Con un'efficienza Stupefacente 30 aprile 1978 Un dipendente Ha scoperto Per caso I miei esperimenti Potrebbe essere Un umano Rappresentante Potrebbe essere Umano Rappresentare Una fonte Di alimentazione Come reagirebbero Le sanguisughe 3 giugno 1978 Un giorno da ricordare Oggi mi hanno imitato Per la prima volta Devono aver riconosciuto Il loro papà Oddio Splendide creature Nessuno riuscirà A portarvi via Quindi seguendo Comunque Questo discorso qua Sarebbe 4 8 2 1 4 8 2 1 Più o meno More or less Sostanza chimica Yes Yes Il decolorante Famosta roba Bellissima Meraviglia Ok Quindi ora giù Ability Devo mandare Sia I colpi di pompa A questo punto Che il Che il decolorante Effettivamente Stavo pensando Non so cosa Ma qualcosa Stavo pensando Ma Vabbè Ah vabbè E qui il coso Quindi Ma andiamo giù Yes Allora Intanto Questi Così lui Li mette Direttamente In saccoccia Eh no L'idea È quella Poi Che quando Si rincontrano Faccia scambio Quindi Ella Oddio Aspetta E qua C'è gente Cattivissima No no Rebecca Billy è attaccato Rebecca Billy è attaccato Merodatch Sekes Com'è Ma lui non ha l'arma Non ho parole Ma come cazzo Si fa Billy per favore Però non ho parole Cazzo Ma che stai serio Eh Mo switch All'altra Bella sta roba Ok Che stronzata Comunque Una nota Rapporto Del Del Manca Manca una L E un apostrofo Del Investigatore Va bene Dottor Marcus Cofondatore Con il presidente Spencer Dell'Umbrella Corporation Scomparso dieci anni fa I risultati Delle sue ricerche Sono stati mantenuti Segreti Per tutto questo tempo I motivi Ci sono apparse I motivi Ci sono apparse Evidenti I motivi Ci sono apparse Va bene Qui al centro Di addestramento Diretto del Dottor Marcus Beh Non proprio qui Più che altro Nei sotterranei Una volta avventurati Nel sottosuolo Tutto ci è perso Più chiaro Vi abbiamo trovato Le prove Delle ricerche Condotte dal Dottor Marcus Sul prototipo Del virus T Chiamato Progenitore Le prove Di anni E anni Di orribili Esperimenti Condotti Suddipendenti Della società Trasformati In vere E proprie Cavie Non sappiamo Con esattezza Il numero Di individui Costretti A partecipare Agli esperimenti Ma secondo I nostri calcoli I soggetti Coinvolti Dovrebbero essere Almeno 20 Alcuni di loro Eliminati appositamente Per custodire Il Per custodire Il L'atroce Segreto Della società L'atroce L'unica cosa atroce Qui è la grammatica Che cosa sto leggendo A parte Quindi eliminati Il L'atroce Va bene Va bene Il L'atroce Il L'atroce Non so Dove si trovi Il direttore In questo momento Ma considerando La recente Rapida crescita Dell'Umbrella Corporation Non posso fare a meno Di credere Che le sue ricerche Stiano continuando Già Le sue creature Sono ancora in vita E continuano A crescere Nell'ombra Quelle cose Il frutto Delle sue ricerche Infestano Quest'istituto Le pagine restanti Del taccuino Sono assenti Rapporto Ah lì dice Dell'investigatore Effettivamente Quindi Diciamo che c'è Una traduzione Fatta un pochino Con il Bucio Del culo Dell'ano Leggerments E lo userei Perché Rebecca Diciamo che Eppure un pochino Lo tengo Dai Fino a quando Non siamo nel dramma Più totale Si può anche Pensare Di tenere L'oggetto Ah ancora Non è arrivato Ok No Non l'ho preso Più che altro E Billy si era fatto Colpire Bella Stronzata Io prenderei I colpi Appunto Del pompis Ed oltre Che aver preso I colpi Del pompa Da un lato Vorrei usare L'erbetta E da un lato Vorrei Usare Lo spray Dall'altro Lato Vorrei evitare Lo manteniamo Ancora un po' E mandiamo anche questa La sanguisuga blu Ok Allora Allora Ah giusto Riprendiamo Il serve La sanguisuga Yes E possiamo andare E Ora c'è Quello stronzo Ora c'è Lo stronzo Però facendo Magari Un minimo Di attenzione Riusciamo anche Intanto Qua voglio vedere Ok Più o meno No comunque Devo fare Poi lo scambio Cioè Billido Effettivamente Vediamo Qua attenzione Massima Ce la fai a prendere Questa Molto velocemente Ok Dai Va benissimo È andata È andata È andata È andata Ok Ora Entra Prima di subito Cortesemente Grazie Doveva andare Più o meno Così È andata Così Ok Un acquario Che location Simpatica Colpi Eh cazzo Questi sono poi Da Da dare direttamente A Rebecca Ok Va bene Qui Si vede Ok Ah la bobina D'entrata Oh Merda Ho preso i colpi Che tanto Ora non posso Eh c'è Qualcos'altro Qui C'è scritto Qualcosa Sul retro Della fotografia Fotografia A James A James Nome Come ricordo Della cerimonia Della laurea 1939 Cazzi Vecchie fotografie Cazzi Ha avuto un Lampo di genio Billy Tanto qua c'è questo Il cosiddetto Scheletro Sull'armadio No Abbiamo gli scheletri Qua cambia il discorso Questo più che essere Scheletro Sull'armadio E scheletro Sul comodino Però vabbè Il concetto È sempre quello Benissimo Intanto lasciamo queste Sì perché Non Non Puedo Tenerle Effettivamente Quindi vabbè Andiamo Qua mi sa che c'erano Degli stronzi Sì Colpetto per forza Magari l'altro evitiamo Dai Ok La sanguisuga verde L'amuletto Della sanguisuga Verdes E andiamo L'altro Dorme tranquillo Noi gli diciamo Nulla Lo lasciamo Lo lasciamo Nel suo sonno Nelle braccia Di morfeo Allora Via un attimo Perché Se no Le prendiamo Sì Il momento Dove effettivamente Faccio lo scambio E quando Oppure no Non lo so Onestamente Tua madre Tua madre Allora 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 Ascoltami Forse tu Non ci siamo Tanto capiti Non ci posso credere Tana la miseria Impestata Veramente Perché Mi ha dovuto Colpire due volte Sto figlio Dell'androchia E mi ha dovuto Prendere da dietro Pure Ecco Stiamo calmi Con i termini Allora Intanto Questa La manderei Sopra E' ancora Sotto controllo La situazione E' ancora Sotto controllo Perfettamente Quindi va bene Così Questa La mandiamo Sopra Dopo aver Mandato Questa Sopra Intanto Eh La devo usare Sti cazzi Ora si Ora si Va bene Così Dai Perché Sennò Finiva Veramente Male Allora Avendo mandato Questa Sopra Torniamo Nei panni Di Rebecca E prendiamo Questo Ok Sanguisaugas Yes E Sanguisaugas Guarda che si usa Qui Si Perfetto Serrature E' stata Sbloccata Devo dire Che sono Delle serrature Molto Particolari Occio Qua dentro Esatto Però magari Rebecca Arrivassimo pure A colpirli Gli stronzi Ok Grande roba Grande roba Uh Uno E due Risorse Non ci sputo E questo Questo che cos'è Il La gente sterilizzante Si Ok Quindi si torna Indietro Comunque Tutti Questi giri Per poi fare Delle cose Magari così Piccole Alla fine In realtà Che non Porca miseria Ad altronde Parliamo di Resident Evil Non potrebbe essere Altrimenti Cioè Sempre Sempre questa è la situazione Quindi vabbè Ok Qua Si Agente sterilizzante Si usa qui Esatto In modo da Liberare Si La zona Tolgo un attimo La pistola Entriamo Per essere Il più veloci Possibili Prendi Questa La devi prendere Però Grazie Non so se magari Posso evitare Di dover sparare All'altro Stronzo Ok Perfetto Di qua Va bene Va bene Questa Intanto Entriamo qui C'era l'erbetta verde In teoria Qua no Non ricordo Non ricordo Ma mi sembra Sì Eccola Perfetto Perfetto E ora Questi Questi colpi Questi colpi Del lanciagranate Saranno un investimento Devono essere Un investimento Importante Entriamo Entriamo Questa è una delle stanze Potenzialmente Una delle più tragiche Del gioco Cucu 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 Il quadrante Madonna Mia 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 Come armi Cucu 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 La lingua Hanno mostrato Di progresso E' improbabile Senza ricorrere All'uomo Come organismo Base Rapportano In biologiche Diciamo Diciamo Che In realtà Hanno funzionato Queste Queste Schifosissime Armi Biologics Allora Adesso Il quadrante Abilli Sì Il quadrante Abilli Quindi Di qua E lo mandiamo Giù Eccolo qua E giù Di sotto Sentiamo Sempre In una posizione Più che Tranquilla Ok Prendiamo Ora però Io non mi ricordo Il codice Era 4 Cazzarola Cos'era Dovrebbe essere Questo 4 8 4 8 6 3 4 8 6 3 Dovrebbe essere Sto punto Andiamo a tastare La qualità Vediamo Stando attento Sempre Non è possibile Però La roba non è possibile Lo fai apposta Cazzo Incredibile Non è possibile Basta Vabbè Quella dietro In modo da fare Anche più danno Il figlio di puttana Sì 4 8 6 3 Let's go Entra magari Che cazzo Però sti danni Della Chosba Che fastidio Va bene Cazzi Ma pazzo Quest'uomo Olio cuore Chiudo Ok Una leva Yes Così ci possiamo Ricongiungere In teoria Sì Sì E almeno E almeno Dov'è Eccola E questa Già è una roba Diversa Cioè Aiai Di qua Però Ah intanto Devo Ok Devo far tornare Rebecca Sì Riportiamola Al nido La lady Qua Aia Ok Qui penso sia La situazione adatta Per fare più o meno Lo scambio O comunque O comunque O comunque O comunque Sì E però Sto pensando Per ora Per ora Devo lasciare Ok Sì Per ora Effettivamente Lo devo lasciare Lo devo lasciare Ok Quindi Ah intanto Salverei con Billy Oltre che ci siamo Che si può fa Ok E sovrascriviamo Fatto questo Torniamo con Rebecca Riusciamo magari a deambulare Grazie Perché è praticamente L'ultima Volta Dove realmente Il rampino Sta in mezzo alle palle Grazie a Dio No perché onestamente È abbastanza Una rottura di scatola Quindi sopra così Così nel frattempo Ce le ha lei Colpi di pompa Sì Quindi prendili Guarda come guarda Guarda come guarda Billy dalla finestra Franto Ti sto aprendo Ti sto aprendo Stai calmo Stai molto relaxed Adesso è aperto Ok E questa è una bellissima cosa Ora Richiamiamo Billy Un attimo Il rampino ancora serve Ancora serve A Rebecca E vabbè Questo lo può lasciare Lui deve mettere La bobina Ma Ne manca una Oddio Me la sono mancato Qui sotto L'ho persa Qua sotto Ah eccola No vabbè Va bene Bobina d'uscita Sì vabbè C'era stato un momento Di panico Va bene Allora Ok Andiamo a mettere Pure quella Qui Là Parti Ed è vivo Ora succederanno Una serie di cose Drammatiche Una serie di Catastrofi Una dopo l'altra Questo qui Non me lo devo Ricordare Non me lo devo Ricordare Non me lo devo Scordare Non ricordare Il pompa Messo lì Che poi lo devo Recuperare Effettivamente Allora Levati magari Grazie E Saccate Ma lei l'ha spitto Comunque Cioè Aia Dovrebbe essere Morta In che ora Ma vabbè Anche Billy stesso Con questa cosa Però evidentemente Degli Highlander Bah Aia Revecca Girati Merda Ok Madonna che movimenti Incredibili Che ha Rampino Sopra E abbiamo finito Con il rampino Praticamente E si Si è finita Con il rampino Perché non Fortunatamente Via Basta Veramente Non se ne poteva più Quindi prendo Questa La mettiamo Però adesso Mi sta avvenendo Un dubbio Terrificante Più avanti C'è la Magnum Cazzo Più avanti C'è la Magnum In questa maniera Io Ho fatto Una mezza stranzata Più o meno E vabbè Lascio lo spray Cioè Voglio dire Non Infatti Lascio lo spray Non ci perdo Una Magnum Per uno spray Medico Veramente Sarebbe Da ridere Come cosa No 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 Lascio Lascio lo spray E sti cazzi Via Ok Ed eccola La nostra amica La Magnum Bella sei E via Quindi Yes Per quella Che risulta Essere L'ultima Location Del gioco Sì Effettivamente Resident Evil 0 È abbastanza Straightforward Mettiamola così Non è una roba Non è una roba Lunga Non è una roba Allora Sa essere tragico Se non si sa Come gestire Questo Questo discorso Legato all'inventario Questo sì Però di base Se può fa Mettiamola così Questa dovrebbe essere chiusa Quindi di qua Ok Ok Allora Cri dentro Bruttino Sempre Munizioni Va bene Pistola Purtroppo Non posso prendere Quelli là Del lanciagranate La mappa La prendiamo Eccola Mappa della fabbrica Allora Io per ora Terrei Cioè no Lascio un attimino Questa Per salvare Più che altro No Volevo salvare Realmente Prendere questi Grazie E via Sala pan Pannelli Panni Bah Cacciamolo via Riprendiamo La Pistoletta E via Allora Adesso Cazzo Ci ho pensato Ora Porca Eva Porca Eva L'ho ingestito Di merda L'inventario Fino ad ora Ahiai La chiave Un umanoide gigantesco E sospeso In un liquido Biorganico All'interno Di una capsula Un attimo Un attimo Perché devo Per una Devo un attimino Lasciare La magnum Vabbè Lascio la magnum Perché devo Prendere la chiave Non ho spazio Quindi vabbè Facciamo Questa robetta Continua Un mondo Di ombre E di silenzio Ma Che cosa Cosa dici Prendo Babau Che cazzo fai Scorreggi Che cosa Sono questi suoni Occulti Che suoni Sono Oh no Vabbè La magnum È già a terra E Lasciamo questo Lasciamo il nastro E via Ok Quindi Andiamo di qua Scendiamo E ok Chiave 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 Ora Se sono Abbastanza Bravo Ok E questo Magari Facciamo Sta roba Non lui Vabbè, non volevo sparare a quello Vabbè Volevo sparare semplicemente a quello che avevo davanti Però la mira assistita ha alloccato l'altro Va bene così Ok Tra l'altro non avevo lasciato la pistola Avevo lasciato la magnum Eh, l'avevo lasciato la magnum Ma la pistola, il contrario, vabbè Eh Ok La chiave si usa esattamente qui? Sì Piattaforma Ok Riprendiamo questa Ora c'è un momento abbastanza particolare, ecco Mettiamola così Leggermente particolare Un primo incontro Con un soggetto alquanto particolare appunto Quindi Sensore Easy Si 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 Ok Adesso Ma cazzo Ma io non ho mai Spazio Vabbè Vabbè Enrico Che uomo simpatico Stai bene So schiatati Vabbè Madonna sembrava Non l'ho mai visto più Cazzo Ma cazzo più che altro perché? Mi serve questa Mi serve questa e quindi dobbiamo Però la devo lasciare Perché ho fatto una cagata prima Nella gestione con Billy Ed ora Ed ora Ma poi io posso Domanda Io la sto lasciando la magnum Non vorrei Vediamo E un po' mi terrorizza come roba Speriamo E' stato attivato Eccolo Eccolo Piedi belli I piedi più belli del mondo Bello sei Ora c'è un modo abbastanza Easy Se non lo canno Di tenerlo a bada Vediamo Vediamo Dipende da quanto sono stronzo Ia Ai ai Tutto che twitch Tutto che Ok No Vai E diciamo che questa cosa complica Non di poco Tutto Però va bene Ok Allora l'idea è una Abbastanza semplice Ovvero Quando lui Comincia ad attaccare In questo modo Di togliere l'arma E poi scattare dall'altro lato Rimetterla Perché senza arma Effettivamente si è più veloci Merda Forse troppo Tempo No Ok Via Ok Allora Ok Madonna L'abbiamo fatto Flawless Perfetto Dimmi che si riapre La roba Per favore Non si riapre Quindi tu mi stai dicendo Che io ho perso Per sempre La magnum Vabbè dai Questo per dare un minimo Di un po' di Un po' di brio in più Alla Alla run Va bene Va bene così Che stronzata Non devi riuscire Però Oh madonna Non dobbiamo riuscire Rebecca Ah forse Si è riaperto Fermo 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 Un attimo Ho visto Ho visto male Eh di nuovo Riusciamo Non so se ho visto male Ah perché Ah Ok Non ho mai fatto casa Questa cosa Il cadavere scompare Perché effettivamente Non è morto E nel frattempo La parete Ok Ok Grande È andata In maniera meravigliosa In questo errore In questa cagata È andata È andata bene Va bene Va benissimo Sono contento Allora per il resto Mi sembra Il primo Livello No era il quarto Ho fatto una stronzata Ho fatto una cagata Lo scherzavo Questo Ok Ok Sefirot Il tempo è finito Tu e i tuoi amici Non mi più ammussano Buona Ritenza Ora Niente Non mi impedirà Di ottenere La mia Ritenza Ma in che senso Ma cosa sto Ma in che senso Ma che cos'è Resident Evil Zero Un Final Fantasy Che non ci ha mai creduto Cioè E chi c'è Oh no Oh merda Aia Wow Bisogna Soccorrerlo Bene In realtà questa è ufficialmente la zona finale Perché vabbè la fabbrica era una mini zona Più che altro perché c'era il Il Tyrant Ok Però questa realmente È la zona definitiva A colpi Salvataggio Sì Non si sa mai Ma se posso farlo Perché no Alla fine Yes Ok Sala contro Sala di controllo Sala controllo Sì Quindi cacciamo via questi Riprendiamo la Pistols Pannello di alimentazione della diga Stabilire un punto di alimentazione elettrica La corrente può essere fornita a qualsiasi area Fino a due punti di distanza Cambiare i punti? Sì Allora due punti di distanza Uno Due Quindi a quale Uno Ok Partendo mettiamo da Questo Come andrebbe a farlo? Uno No Uno due E se faccio Oh Vediamo Ok Uno due Uno due Giusto Madonna mia Wow Wow Qualità Qualità Ok La corrente si è stata ripristinata Ok Va bene Andiamo Ascensore Aia Abbiamo degli amici Bim 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 Ancora c'è gente Esplosa la testa Sentito Meraviglioso Vabbè Cure Che per ora Diciamo si possono anche evitare Non siamo in questa Questa situazione di dramma Quindi va bene Qua mi sembra Sì Via Occhio Madonna mi stava prendendo Va bene Devo ritrovare Billy necessariamente Perché ho bisogno dell'inventario Cioè Qua la mappa Va bene Questo Stabilimento rifiuti Questo lo possiamo Pure far girare intorno Però non lo vedo più Ok Perderlo di vista Un po' mi fa paura Ok Di qua Altre cure Nel dubbio Sappiamo dove sono Ok E qui dovrebbe esserci Billy O comunque Vicino Altri colpi di pompa Ok Qui Per l'esattezza Intanto qua io cambierei Considerando che Effettivamente Allora Billy Billy Ancora ho nemmeno cambiato Che stronzo che sono Ogni volta non cambio Che Cosa potrebbe essere fatto questo? Cosa potrebbe essere fatto questo? Deve essere usato sui soggetti di test in ricerca di Marcus. Deve essere continuato a lavorare con il virus madre. Billy? Oh, arrivo, arrivo signori! Ah, cazzo, vabbè. Ok, intanto qua. Togli, va bene. No, mi ha salvato la roba, impazzisco. Ah, ok, perché dovevo togliere. Ok. C'è sto, c'è sto, però finalmente ci siamo... No, can you stay here? Come on! Calmiamoci tutti. Allora. Perché qui ci dobbiamo un attimino risistemare, riaggiornare. Allora. Ok. Cazzo, io non so onestamente se... Allora, per ora... Per ora... Questo lo do... Ok. E che... Vabbè, stiamo... Stiamo così per ora. Va bene. Via. Uh. Ok. Si risale. Ok. 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 Questa volta lo sbaglio per un motivo o per l'altro. E... Allora. Tanto saliamo. Sicuro... Sicuro che una... La devo già spostare. Ah. Ma perché non... No, non posso ancora. Ok. Così. Giusto? Tipo. Ok. Torniamo a Billy. Si sposta questa per intero. Ok. Ora. Se io non mi ricordo male... Questa qui intanto... La ora la spostiamo... Tutta quanta di qua. Qui saliamo. Ed intanto... Questa la spingiamo un pochetto. Giusto un po' così. Ri... Giriamo. Ok. In modo da... Poter... Spostare tutte in qua. E di qua. Dovrei esserci. Ok. Ok. Ci dovrei essere, sì. Vediamo. Destra. Let's go! Ok. Va bene. E questo qua. Ok. Magari spingilo ancora. Willi. Perfetto. Te se vuole bene. Ok. Saliamo. E ora possiamo effettivamente tirare la water. Far salire l'acqua. Vai Rebecca. Vai Rebecca. Riempi. Lotori. Ahm. Ma io non ho capito una cosa comunque. Com'è possibile che arrivano su whatsapps messaggi da situazioni strane? E qua al solito blocca E elimina Ok così almeno vediamo se sempre si fa gli spiritosi Allora Let's go Quindi Mania Ok Andiamo E la mania la mania la mania la mania Dove c'è l'each Dove c'è l'each Ok Posso La minchia Posso Ok Che dovrebbe essere Velca porca puttana Non è possibile Un attimo adesso Vaffanculo Veramente Eh vabbè lo elimino così almeno Billy No non ho parole Non ho parole su quello che sta potendo succedere Una tragedia Una tragedia Una tragedia Una tragedia Oh un attimo Un attimo È stato un attimo Esatto Di distrazione Stava finendo in tragedia Stava finendo in tragedia Stava finendo in tragedia Meno male che qua c'è la doppia Però Rebecca figlia mia Un attimo di cura ricostituente Perché non è possibile che Porca mignotta Spaventosa sta roba Va bene Un attimo è stato Un momento di distrazione Niente Va bene Va bene così Va Prevista roba E via Che pezzaccio di merdaccia Ora veloci Perché c'è il Laces E sempre Via 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 Dentro Dentro Ma ti si tira Sta cazzo Le cose dentro Con calma Comunque Mamma mia Ok Ora E qua c'è un po' di gente brutta e cattiva Giusto? Lo sai cosa Io questi li mi rifarei quasi quasi con il pompa Vediamo Facciamoli avvicinare Uno E billy Bene No Attenzione Non è stato toccato minimamente O comunque È stato toccato Sì toccato Ma basta Si ferma lì No Vabbè Ma come è possibile Ai 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 billy Saliamo sta scala Per favore Nota Rapporto al solito Del Senza la doppia L Senza l'apostrofo Investigatore 2 Avremmo dovuta farla finita con questa faccenda Molto tempo fa All'inizio Chi avrebbe mai creduto che si sarebbe ricorsi alle armi in questo modo? Al briefing nessuno ci ha parlato del pericolo rappresentato da queste creature Immagino che sia stata una sorpresa anche per i gran capi Quelle cose nascoste nella foresta hanno cominciato ad attaccare la gente Tutto giù è stato pianificato Qualcuno deve avere deliberatamente propagato il virus Non c'è alcun dubbio E le guardie Nostri commilitoni Devono trovarsi ancora là fuori Sia quel che sia Non è più un mio problema Ora la mia unica preoccupazione è decidere se utilizzare l'ultima pallottola per uccidere Per uccidere Io stesso Ho un compagno Non me stesso Questa è l'unica decisione che mi resta da prendere Va bene Ok Va bene così Metterlo Sì Qua c'è suoni C'hanno suoni ma non so se c'è Rebag Via 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 Billy Grazie Sono abbastanza incazzato Per questi danni un po' stupidi che sto arrivando a prendere Ma stupidi veramente stupidi Evitabili ecco Non so cosa dire Va bene Ah cazzo qua se non mi ricordo male Bruttissima stanza Vediamo se A io prendere i billi però Che Rebecca almeno sta sull'ok E questa? Sì Ok Dovrebbe essere Morti? Morti E' andata In maniera perfetta Ok Meraviglia Ma safe zone Allora Allora Colpi Ok Napalm Fondamentale Facciamo il trucchetto Del Ah però a billi Giusto Ok Ehm Salvataggio vabbè ora Io userei questo Poi Salvataggio E via Ok Salvamo Ok Allogio Ehm Via questo 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 via E via Va bene Dai 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 Ci sta Ah Ok Guarda sta figlia androcchia Io lo sapevo Io lo sapevo Mamma mia Va bene C'è Oh è incredibile sta roba La probabilità Non è Non è Non è Non è Cosa volevo dire Non è scriptato Il fatto che dovesse uscire qua questa rana Non è questa quella scriptata È una possibilità Una probabilità ecco Però è uscita C'è che botta di Voglio dire Che Che minchia di sfiga Ora occhio qua Iniziamoci con questa Non so Billy dove Però Billy potrebbe anche Esatto Mettersi da questo lato Ok Ok Oh merda Via E qui sono molto più resistenti Molto di più Morti Dovrebbero essere andati tutti Ok Colpi Ah una nota prima Diario del direttore Stabilimento Per i rifiuti 10 5 Accidenti Perché continuano a consegnar Ah continuano a consegnarci Ordinario materiale di scarto industriale Questo è un istituto Dell'Umbrella Corporation Non siamo in grado di far fronte A tali quantità E in più Continuano ad inviarci Materiale contaminato Che non possiamo trattare Che cosa diamine Dobbiamo farcene 24 7 Alla fine pare che vogliono Chiudere lo stabilimento Non mi sorprende affatto Visto il modo In cui lo utilizzavano Era una cosa che andava fatta Anche se è successo tutto All'improvviso Fino ad ora Nessuno se ne era interessato Ad ogni modo L'importante È che io me ne vada da qui Le loro decisioni Non mi interessano affatto Ok Calma Chill Stiamo nel chill Amico Munizioni fucile Ah brutta ricordo Penso di ricordare Più o meno Penso di ricordare Che Billy Deve stare Nel suo Sì Ed ora Un dramma Secondo dramma Perché chiamano numeri 392847 Perché chiamano numeri Che non Mai sentiti in vita mia Mai visti in vita mia Perché sta roba Boh Non amministrare E qua siamo nella merda Ecco Ai 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 Rebecca Ancora Belli piedi Di nuovo lui Aia Direi subito Ripompa Un colpetto Tanto per Fare di capire Chi comanda Nella zone E poi Di scappare In modo Abbastanza veloce Sì Merda Forse un altro colpo Se poteva da Ho fatto una Cazzata Mi ha preso Tantissimo Ovvio che mi ha preso Volato Ok Bello Non ti vedo Non ti vedo Mi terrorizza questa cosa No Merda Mi ha bloccato Mi sa che è andata Di merda Mi sa che sono morto Mi sa proprio Che sono schiattato Oh porca Eva Eeeh Sta andando Maluccio Pericolo No ma più che altro L'ho gestita Abbastanza male Si può dire Penso si possa dire Aia Morta Madonna E però Qui non ho tutto Sto spazio Cazzo L'arma Vabbè Credo sia andata male Stavolta Forse no E invece è andata di merda Ok Meraviglia Eeeh No 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 Mando Billy Mando Billy Mando Billy Mando Billy Mando Billy Mando Billy Mandiamo Billy Va bene A Billy Deve stare il pompa In ogni caso A Billy Deve stare il pompa Quindi va bene E' una cagata questa Di tenere Per Rebecca La No no Facciamo questo cambio Allora Cambio di programma Quindi tu mi dai questo Io ti do questo Ok Ah Billy Va bene Può andare benissimo Può andare benissimo Questa Questa combination Anzi nel dubbio Ma non serve Più di tanto Lei sta sull'ok Sì Nel dubbio Gli lasciamo pure Lo spray Ma non Non dovrebbe servire Questa nota L'avevo mancata Sì Formazioni sul liquido Per le batterie Il fluido Utilizzato nelle batterie E' una soluzione diluita Composta da acqua E acido solforico E entrambi Devono avere Un altro livello Di purezza Quando è completamente carico Il liquido Per batteria Deve avere Una densità Pari a 1280 Non saprei dire 0,10 A 20 gradi Ok Purezza Dell'acido Per le batterie Assicurarsi Che la soluzione Diluita Di acido solforico Abbia un livello Di purezza Sufficiente Ok Va bene Allora Rilascierei però di nuovo Un attimino La pistola Rebecca Per fare questa parte Infame Con gli zombie potenziati Gli stronzoi di potenziati Rebecca Non ci perdiamo però Negli unpratti Grazie Ai Ah merda Di nuovo Stavolta no Stavolta no Infatti Non è una cosa Non è qualcosa Di scriptato È randomico Vabbè Allora Io direi Spostati qua Tendenzialmente Arrivano da questo lato Sì Cazzo i colpi Ok Ancora E che cos'è Highlander Beh ora Ora gli è dovuta Saltare in aria La capoccia Allora Billy Prendi questi E cerchiamo di farla Un pochino più sensata Rispetto a prima Eeeh No vabbè Rebecca sta sotto Sta sopra Sta qua Non la posso rischiare Ah però solo il pompa Cazzo No Eeeh Oddio Un attimo Un attimo Un attimo Lui con la pistola Lo voglio gestire Cioè pompa All'inizio Tanto per dargli Un colpo di Così Sui sentimenti E poi Dritto tutto Di pistola Questo deve essere Il Il plan Quindi gestiamola Così Non è che mi sono portato Rebecca Beh Ma porca puttana Ma Rebecca Ma Devi stare sopra C'è già la Già la zona E stretta Per combattere Sto Sto stronzo Oh tu Stai lì Ok Ce la possiamo fare Dai Dai Ok Mo Come detto Si parte col pompa Intanto lo tolgo Per andare più veloce Per poi Corrergli addosso Ok Io posso dare anche due colpi di pompa Mi sa se arrivo No uno Uno Porca Eva Porca Eva Sono avido Sono un avido Bastardo Togli sta roba Eh vabbè Comunque Devo stare in attenzione Sulle palle Mi sta comunque Sta roba Togli sta roba Che zona di merda Per combatterlo No Non è scattato Che cazzo Però Vabbè E abbiamo un grande problema Non c'è spazio per combattere Potrebbe essere Potrebbe essere un piccolo problema questo Potrebbe essere un grande enorme problema questo Sono bloccato Mi ha bloccato Ho re rotto il cazzo Ho re rotto il cazzo Non si può Non ci si può permettere di sparare un colpo in più all'inizio Perché poi comincia a rompere il cazzo effettivamente Quindi quel ragionamento lì si fa un attimino benedire In ogni caso continuerei con questo discorso Con Billy Questo lo caccio via Questo qua E nel frattempo Qui Andiamo così Non mi interessa la frutta secca Voglio lo spray Grazie Vabbè Diciamo che La zona per combatterlo è quella che è Non un granché Ecco Per dirla Per dirla tutta Per dirla tutta Ai Che palle però davvero Che due coglioni Tra l'altro credo siano le uniche due morti che ho fatto fino ad ora Cioè potevo fare il tutto senza morire E questo figlio della merdaccia mi ha dovuto ammazzare Credibile Incredibile Ok No no che è un cazzo Ok Ora ok in teoria Riprendi sta nota Via Ora Pistola abbiamo detto A Billy E nel frattempo Gli darei Ok No Colpi del pompa Abbiamo detto A Billy Se no cosa abbiamo fatto Niente Ok Eh tu stai lì per favore Per l'amor di Dio Vediamo se magari questa volta riusciamo a fare Un minimo di cose Problema è quando mi va a bloccare negli angoli Quello è un grande problema Via Perché già sta andando mi sembra Di capire Pezzo di merda Lo vedi che sei un pezzo di merda Lo vedi che sei Un disgraziato completo Fa le finte Ora parte Mi sa Niente Lo fa Apposta cazzo C'è di pompa Per liberarmi Più che altro Ma io vorrei capire una cosa A livello di A livello di Come cazzo Mi dovrei muovere Bene Va bene Va bene Ok Posso? Posso? Fammi capire Ora Va bene Sì però è un po' Una stronzata comunque Va Che cazzo di schifezza Ma poi ti va anche schiattare Potresti anche schiattare Più o meno Morto? Ma vaffanculo Va Ma vedi che devi fare Che stronzo che sei Andato Ma realmente mi dà più fastidio lui Che Che so Il boss finale Per dirne una Cioè Perché Perché L'area di combattimento Di questo Bastardone Pieno d'acqua È brutta È proprio Pessima È pessima Cioè Non è Non è gestibile È semplicemente Fastidiosa In modo tale Da dover dare fastidio Cioè Non è nulla di Non è divertente Punto Vabbè Uso queste due così Sti cazzi Lo spray Non lo uso In quella maniera Ok Adesso Adesso Ho fatto questo Teoricamente Lassopra c'è No No Devo tornare un attimo Con Billy Gli devo dare lo spray Devo dare lo spray a lei Ok Vabbè Diamo alle lo spray Do stai E chi te Ti è Oddio In realtà La pistola Le devo dare Pure i colpi Ah no Questo Vabbè Dovevo farci Nulla di Nulla di più Nulla meno Va bene Ok Allora Su di qua Yes Che rottura Di cazzo Bello Eccolo Scheda madre Yes Non c'è altro qua Vero Dovrebbe No Vabbè Torniamo Torniamo Da Rebecca Vedi qua Vedi qua Vedi qua Vedi qua Vedi qua Vedi qua E ora siamo qua Ok Il sistema Il sistema di trasporto Il sistema di trasporto riceve nuovamente la corrente Benissimo Guarda quanto è bello E qui dentro E qui dentro Considerando le dimensioni di Rebecca Ci può entrare E' un piccolo container Rebecca Potrebbe riuscire a entrarci dentro Salire Yes Aia la schiena Aiuto Ok Ok C'è una leva Per azionare lo sblocco della diga Azionare la leva Sì Dai Dai che riusciamo E acqua fu Ok Adesso Colpi Perfetto Che lei ha In questo caso Come no Qual cazzo stai dicendo Non c'era lei Ascoltami Giovane Non fanno scherzi Ok Ora si Voglio dire Scherziamo Ora possiamo andare Allora Qua cosa abbiamo Ah Uno di quegli schifi Va bene L'abbiamo tenuto A nanna Altri colpi Benissimo Questo Lo dobbiamo Cos'era quel sound Ok Questo lo dobbiamo mischiare A questo Oddio Così Mi sto confondendo Metterlo Yes Stanza rossa Stanza chimica Blu e rossa Acido solforico Ok Questa è una shortcut Si Per ora non interessa E adesso io devo fare la seguente cosa Poso un attimino i colpi della pistola Va bene Ce la facciamo Grazie Acqua industriale Acqua industriale Da combinare con Se non mi sbaglio questa Per fare Liquido Per le Per batterie Ok Riprendiamo i colpi Si Si va sotto Giusto Dovrei poter andare sotto Sì E qua sotto Là c'è la batteria Non ci arriviamo Perché giustamente È chiuso da questo lato E qui Ritorna in gioco Entra in gioco Il nostro buon Billy Eccolo qua E devo scendere Sì Perché ho Ora posso passare Giusto La diga Per la diga Sì Ora questo è uno dei Mille Run killer Della storia dei videogiochi Ovvero la cazzo di rana Di Resident Evil 0 Che è sciotta Sciotta per una determinata condizione Ovvero stare troppo lontani Attacca con la lingua Prende E automaticamente Niente Game over Cioè non Perché Mangia completamente Risucchia completamente Quindi la cosa intelligente È stare vicino In questa maniera In modo tale che Nella peggiore dell'ipotesi Dovesse attaccare Almeno fa degli attacchi ravvicinati Non sciotta Ecco così Per dire Eh perché te ne sei andata Non lo so È andata Non mi è mai Non l'ho mai vista Andar via Va bene Un po' mi Un po' mi fa cacare addosso Sta cosa Però vabbè Se non fa cose strane Mi va anche bene così Va bene Quindi Detto questo Qui c'è Altra gente Cattiva Giusto Oh merda Salve Uno E due Ah basta Basta Recuperiamo così almeno Con i colpi del pompa No magari Ok grazie O è via Colpi di pistola Questi per Rebecca Quando torniamo qua Eeeh Mi ricordo Stavo pensando a qualcosa Non mi ricordo cosa Rebecca come è messa L'inventario Cazzarola Aspetta allora un attimo Questo lo diamo a lui In modo tale da Ok si Yes Eccola Batteria vuota Sbam Oh no Gli schif Mamma mia Bratte giganti Andati vero Beh Andati Questa combinazione Billy Rebecca Questa jolly cooperation Tra Billy e Rebecca Ha dato i suoi frutti Eeeh Però togliamo tutte e due le armi Ok Questa la combiniamo a questa La batteria ora è carica Quindi posso tornare Ok Ah let's go intanto Dove c'era Il muletto Ok Torniamo là Mi sembra Di qua Non ricordo Penso Dove sono No Non di qua L'altra 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 Quella che ho sbloccato Dove c'era il La sostanza blu Ok Quindi di qua Dovrebbe essere questa Dovrebbe Sì Ok Perfetto 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 Ci siamo Perfettamente Ok In maniera meravigliosa Sta andando Quindi saliamo Per di qua Schiacciamo un po' Di Sanguisia Poi Apriamo qua E di qua Buttiamo dentro La batteria Di violenza Così Non lo azioniamo Subito No Billy Billy Stai lì Mo Billy E aziona Ecco Scheda Perfetto Ok Non ti Splittiamo Rebecca Scendi Ok Andiamo E di qua Ok Scendiamo Si deve fare Praticamente La strada Al contrario In questo caso Sì Quindi Via così E via di qua Ora Ora giù E ci siamo Comunque Siamo al Final boss Alla fine Ci siamo Vediamo Allora Allora Intanto Via Ecco Resident Evil Zero E' corto Se si sa Cosa si sta Facendo Ma riesce Ad essere Terribilmente Tedioso Se al contrario Appunto Si rimane Un po' Un po' Fregati Mettiamola così Quindi Apriamo qua Un po' Un po' Presi Alla Sprovvista La serratura È stata Sbloccata Non è più Bisogno Gettarla Via E si E via Aia Aia Stavo pensando In tutto questo Io sono qui Senza cure In ogni caso Nel dubbio Non ho cure Ora Ora il potenziale Massimo Offensivo Serve Quindi Rebecca Via di questo Equipaggia Billy Che ha la magnum Facciamo la seguente Cosa Sì perché Non posso Permettermi Di Di Cazzarlo Quindi Via Aia Oh lo schifo Giovani amici Ai Ai Quelle voce Mi ha assassinato Aia Aia Rip Stranzoni Stranzoni Ah, così. E tu avrai la mia rivoluzione su Umbrella! E il mondo si burnrà in un mondo! Ahahahahahahahahaha Poi pagare per quello che ti ha fatto! E se uno di noi si muore! Ahahahahahahahahah Carino Ai 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 Caramba Che merdaccia E via Tutto A bomba Rebecca No No Non ci credo Via 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 Ma potrebbe anche Mezzo sparare Comunque Rebecca Che fa Un corpetto Non si può dare Rebecca No 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 Non scherziamo Attenzione Tutte e due Ma che stronz Ah però Vabbè Volendo c'è E però Che figlio Della merda Mettili qua Billy No Oh 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 E mo Non ci posso credere Non ci posso credere Dove cazzo era il salvataggio? No Non ci sto volendo credere Un attimo No un attimo Perché è un momento Perché è un momento Pallocci Ma che va davvero? Ma seriamente? No No vabbè Allora io avrò calcolato mare qualcosa Giusto però Non so quanti colpi di magnum Colpi del Del cazzo di lancia granate Ora è terribile la situazione Che di nuovo Devo rifare tutta sta Mandrappata Il Tyrant Di nuovo Va bene Va bene Va bene Ok Facciamolo Whee Che bello Mi gira il cazzo? Sì Non poco Però va bene così Vabbè Doveva andare così Vuol dire Sarebbe stato Troppo Troppo comodo Troppo semplice Troppo easy Non ho capito Per quale motivo Allora All'inizio Rebecca Completamente Non Niente Di sparare Ma anche Billy Ad un certo punto Attacco Un cazzo Non stava Un colpo Non l'ha fatto partire E lui E lei lì è dovuta Lì lì è andata Lì è morta Perché giustamente Che cazzo fai Stai su attenzione Non può fare niente E c'è schiattata Va bene così Un dramma Un dramma reale Cioè Perché penso Più che altro Al bordello Sempre che si deve andare Ad allungare In questa maniera Mamma mia Che cazzo Di stronzata Va bene Va bene Va bene così Io non sto colpendo A nessuno Oggi Un po' Un po' i coglioni Mi stanno girando In questo momento Sì E meno male Che Almeno Colpa alla testa È entrato Vabbè Io non Vabbè Va bene Va bene Ma Bene così Senza 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 Grandi parole Sono Onestamente Cioè Non lo so Penso che con la magnum Un minimo Qualcosa L'avrebbe dovuto Sentire Teoricamente È l'arma più forte Nel gioco Teoricamente Ma teoricamente A questo punto Perché mi stanno Venendo dei dubbi Però va bene Va bene Così Ai ai Ok Ma Vaffanculo Billy 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 Per favore Billy Billy Ok Carica Chi è E stavolta È andato Flawless Va bene Se sono Incazzato Ho i coglioni Pieni Non che sono Incazzato Perché giustamente Non doveva succedere Sta roba Cioè Semplicemente Non doveva succedere Punto Non Smonta un po' tutto Cioè Un tutto Non cambia un cazzo Realmente Allunga un po' il tutto Va bene Però Diciamo che si poteva evitare Ecco Mettiamola così Si sarebbe potuto evitare Però evidentemente Non Al gioco piace rompere Il cazzo Di potenza Va bene Va bene Me ne rendo conto Va bene Ok Resident Evil Va bene Ma si può chiedere a chiunque Lo zero è quello Tra i classici Lo zero Probabilmente E' quello che riesce più a rompere il cazzo Questa doppia gestione è drammatica È drammatica Cioè Sta semplicemente sul cazzo Punto E quindi ok Va bene Non ho capito perché all'inizio Rebecca Non sta Non lo so Non ha voluto Non ha cominciato a sparare Non lo so Siamo andati all'indietro Senza sparare Quindi giustamente Del danno in meno Lui ha fatto il cazzo Che voleva Ad un certo punto L'ha grabbata L'ha presa E quindi è finita Quindi è finita A quel punto Easy Proprio è andata Peggio di come poteva andare Ecco È andata peggio di come poteva andare Effettivamente Vabbè Cerchiamo di arrivarci Velocemente Di nuovo E magari questa volta Cerchiamo di Non lo so Stare un tantino Ecco Un tantino Più attenti No ma perché Billy Scusami Non facciamo Ste stronzate Ok Rebecca Grazie Ah Sì 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 Entra Ok Qua tiriamo questo Va bene Sblocca la diga Di nuovo Anche per chi non è capito Per quale motivo Teoricamente i colpi corrosivi Con quello stronzo Dovrebbero essere estremamente Più forti Estremamente Più Dannifici Mettiamola così Però sembra quasi Non abbia Sentito nulla Non lo so Non Come se non avesse Ha sentito nulla Cioè ok Tranquillo era Ok Altri di questi La porta adesso è aperta Ora di nuovo Rimischia il liquido Ok Giusto Devo prendere quello Quindi per ora Cacciamo questo Mischiamo questo E via Dove cazzo Ok colpi Scendiamo giù Ora se io volessi Andare a salvare Prima della boss fight Per evitare Effettivamente Di rifare Tutto sto Tragitto Del cazzo Onestamente Che Non ha Non ha senso Ok Fermi qua Dobbiamo prendere Billy Veramente Veramente Ma prendiamo E a questo punto Seleziono Rebecca Poi Così almeno Così almeno Non c'è questo Questo dramma Voglio dire Cioè perché se deve essere Una cazzata Di quel tipo No Che palle Veramente Vabbè Andiamo Pompa Subito E vai via Ok Si sale Eh dovrei fare Tipo questa strada All'inverso Però In questa maniera Vabbè si può fare Dai Cioè Almeno stiamo sul sicuro A sto punto Belli magari Grazie Levati dal Per favore Ok Aperta Ah Mamma mia Ok L'inventario Come siamo Messi Per ora Dagli Questo Tu Tieniti Quella Va bene Dai Riprendiamo Via Via Ok Ok Eeeh Pupupupupu Vabbè combina con questo Ok Let's go Presa la scheda Posso andare a salvare Effettivamente Perché tanto devo tornare Mi sembra Mi sembra No Non ricordo Vabbè Ora vediamo Ma Billy dove cazzo sta in tutto questo Porca Eva Io veramente sto impazzendo con Resident Evil Zero Porca Eva Mamma mia Mamma mia Vedo l'ora di tornare a giocare gli altri in modo da avere un Un personaggio da dover controllare Uno Un cazzo di personaggio da controllare Uno E non tutto sto Sta smandrappata Sta cacciara Cioè dai Veramente Sta caponata E dai Eh let's regroup Schiaccia di nuovo Facciamo l'uva E via Di qua Sì C'era lei la batteria No Billy Please Ok Tira Sì Cioè premi Non tira Ok Ora posso andare a salvare Effettivamente Ora sì Vediamo E io non so onestamente Se andare di pompa Con Billy Lascio il pompa a Billy Sì Potrebbe essere un'idea Boh Vediamo allora Intanto cerchiamo di Arriverci Sani e salvi Più o meno Eh Sani Salvi Somma Vabbè Quello che si riesce A essere sani e salvi Quindi di qua Più che altro La stronzata È la strada Che uno deve rifare indietro Per andare a salvare È stata una questione Anche di pigrizia Perché l'avrei potuto fare Però non Troppo Troppo Ho avuto troppa sicurezza Che me l'ha messa In quel posto Quindi Ecco Quello è stato Allora Se io dovessi tornare Giù Giusto Di qua In teoria Qua c'era il ponte Di nuovo Della rana Mi sembra Dovrei No Forse non era qua Oh Sì 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 Perché Allora Sì Perché In teoria Vediamo Non ricordo Di qua Questo è il ponte Della rana Ok sì Andiamo E queste due erbette Allora aspetta Queste due erbette Però comunque Non ho spazio Ci concluso una sega Non ho spazio Beh Per ora Ne tengo una Va bene Ne tengo una Ok Vabbè Una va bene Va bene E andiamo Sì ok Si risale Di qua La rottura E tutte Ste cazzo De stanze Che uno si deve Rifare Poi Solo quello E Billy Non è con noi Perché deve stare Perfettamente Con noi Nell'ascensore Non basta Il fatto Che ci sta seguendo Vabbè Dai Billy Per favore Ora si può Siamo assieme Dai Vicini Vicini Forza Rompere il cazzo Via E di qua Allora Ancora Madonna Però si saliva Oh Allora E Ma sai che in realtà Allora intanto Intanto la scheda Poi è da cacciare via Ad un certo punto Oddio ma Ci sono i rullini Sì C'è un nascosto Qua nell'ombra Fermo 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 Intanto Tira giù Questo No Tiralo giù Ho detto Prendi Questo Si salva Ok E via Allora Quindi aspettate Cacciamo via Questo Si riprende Questo Questo Togliamo un attimino E mischiamola Così almeno Siamo un po' più competitivi Da questo punto di vista Almeno questo Nel dubbio Entrambi hanno delle cure Così nessuno rompe il cazzo E via Praticamente E la scheda dove stava qua Eccola Come non puoi portare Ah Vabbè perché sono di Rebecca Giusto Ai 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 Ok Ok Ci siamo Ci siamo Via La scheda è chi ce l'ha ora Billy Va bene Aia Un attimino Stai tando La pisciatina Un attimo Arrivo Arrivo Un attimo Ah Eri ecco c'è Allora Giustamente Quando Quando scappa Scappa E quindi Dobbiamo tornare Di qua Sì Inversiamo un attimo, ok, e via. E ora teoricamente sono più relaxed, mettiamola così. Boom, vediamo. Speranza che non finisca in tragedia come prima, non penso, non c'è il presupposto questa volta. Quindi... Allora... Il ponticello! Forse il pompa è più consigliabile con questo disgraziato malefico. Non lo so onestamente, cerco di capire. Però penso possa essere più performante, forse. Andare di pompe di magnum, assieme. Boh, eccoci. Fatto sta che siamo qui di nuovo. Scheda. Ok. Però di pompe di magnum... Di magnum. Di magnum vorrebbe dire che io devo lasciarla... A lei la magnum, in questo caso? Facciamo così? Tipo... Tipo, come siamo messi? Intanto dammi queste, vabbè. Via di questa. No, questa aspetta. E cazzo, però non ci arriva a livello di... Vabbè, prendila tu, no? Giusto, giusto, giusto. Quindi lei la magnum. E io uso lei, in questo caso, per evitare qualsiasi forma di tragedia greco-romana. Però qui c'è una colpa di magnum. Aia! Vabbè, per ora... Esatto, per ora facciamo questa situazione qui. La impostiamo così, dai. Va bene. Dovrebbe andare stavolta. Si ha... Si spera. Si spera, ecco. Tutto è possibile. E... Via! Hai rotto il cazzo. Ok. No! Fermo! Che è successo? Oh, merda. Si è evoluto! No! Billy! Ancora? Non mira più. È andato. Che cazzo, sì. Ma questa era solo la prima fase. Almeno. A Billy lo vedi in attenzione. Vabbè, usalo, dai. A sto punto. I colpi... Uh, merda! Wow! Vediamo che risorse ne abbiamo usate. Allora, qui ci sono altri colpi di magnum, però, ho visto prima. Prima di crepare in quella maniera drammatica. Eccoli. Lì. Quindi. Ma ricarichiamola. E in questo caso. Allora, una la deve prendere lei e una Billy. Ok. Ok. E via. Dov'era la porta? Mi sono perso. Mi sono perso. Di qua, forse. Sì. Qua. 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 Sì. Ma tu vai di qua. Ok. E usiamo ste cazzarola dei chiavi. Una. E due. Meraviglia. Ok. Allora. 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 Ricalcoliamo un attimino la situazione. Intanto i colpi. Va bene. Qua cosa c'è? Puttanaccia e vazza. E la roba c'è. La roba c'è. Aspetta, 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 aspetta. Colpi fucile. Billy. Qui ci siamo. Rebecca. Rebecca ha tutto sto spazio. Ha la pistola. Mi sa che... Almeno per Rebecca, tra l'altro. Insomma. Un po' così. È una certa... Un po' passata. Mettiamola così. Però le granate vanno sempre. Una cura lei ce l'ha, sì. Una la do a Billy. Anzi, anche più di una a sto punto. Mi facciamo tipo uno. Tanto questa abbiamo detto che in questo caso mi sa che non tanto più utile. E due. Nel frattempo questa la do a Billy. Tanto gli ultimi colpi sono andati. E un'altra erbetta nel dubbio a Rebecca la diamo. Ok. Però devo salvare. Giusto. Tutto questo. Quindi togli sta roba. Billy c'è da spazio? No. Togli sta roba. Prendi il rullino. Macchina da scrivere. Salvare. Sì. E salviamo. Per quella che risulta essere la fine a questo punto di tutto. Va bene. Magazzino. Yes. Togli sta cosa. Ora, come ci organizziamo? Allora, io direi. Tengo Rebecca. Billy lascio il... Pompa. Sì, a Billy inizialmente lascio il pompa. Ok. E andiamo così. No, però Rebecca, abbiamo detto, lo dobbiamo tenere. Amica mia. Ok. E andiamo. Sì. Oh no. Cosa? Ecco. Bella lei. Aia. Cazzo. Cazzo. Oh merda, così subito? Me lo dici? Via. Via. Oh no. Ok. 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 Occhio. Occhio che puscia. Lei com'è? Su, ok. Vabbè, fino a quando è ok? Aia. Ok. Piano. Billy. Ok. Prima parte. Andata. Ora la seconda. E... E... Le finestre. Fai uscire un po' d'aria, infatti. Aprile le finestre. Eccoli. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Aia. E you work on the windows. Sì. I'll use my charm. Extract your majesty. Sì. Annuale di funzionamento del cancello. Per aprire... Lui chiaramente in tutta questa situazione sta leggendo le istruzioni. Cioè ha questa calma, questa tranquillità. Per aprire l'eliporto nel caso d'emergenza, seguire le seguenti istruzioni qui sotto. Sbloccare la sicura. Nella stanza ci sono quattro meccanismi di chiusura che devono essere attivati in questa sequenza. Lato sud-ovest, lato nord-ovest, lato sud-est, lato ovest. Girare le maniglie di ciascun meccanismo per sbloccare il cancello. Bene. Ora. 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 Io non ho più il controllo di Rebecca. Questo vuol dire che lei dovrà cercare di prendere il meno possi... Ma cazzo, ma ti giri in modo umano? Aia! Ma allora, fino a quando colpisci me mi va anche bene. Si rendo che Billy, infatti, è un toro. Ok. La prima è andata, l'ha tirata. Bravissima. Ora continua a andare le altre. Occhio. Ok. Questa è andata, quindi andiamo di pompa. Pompa, pompazzo. Ok, la seconda... Ok. Aia! E' andata pure quella. Ok. Piano. No, no, no. Da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me, vieni da me. Guardami, guardami. Quini, quini. Reginetta. Di sta ceppa. Guarda me. Brava, guarda me. Guarda me, guarda me, guarda me, guarda me, guarda me. Guarda me. Guarda me, guarda me, guarda me, guarda me, guarda me. Rebecca No Rebecca No così non funziona Cazzo Aia E' andata lei Non lo sapremo mai Rebecca è già su attenzione nel dubbio Cioè non è successo niente Ha preso un colpo e Rebecca è su attenzione Comunque guarda me Dai che ti si vuole bene Ok Bravissima Ok Ok vabbè fino a quando mi sputacchi addosso Ok Non ero l'ultima ok Sa che c'è l'ultima Dai ferma Che cazzo fai? Movimenti strani Aia L'ultima? Oh porca merda Dovrebbe essere l'ultima in teoria Penso di si Aia Basta Basta No Non qui Ti prego basta Yes Yes Fottiti Ce l'abbiamo signori Ce l'abbiamo E' chiaramente A caso così Bello Bello Eh Va bene Sì sì Sicuramente Hasta luego Ah no? Hey Queenie E a caso muore Capito? Capito? Vabbè Ecco Vabbè dai Roba da poco Madonna la risoluzione Cos'è? Ed è dove ci vedremo Ah ma Hmm 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 Posso che è il momento di dàmi Ma poi vi chiedo Su Billy non si sa molto da quando Che effettivamente solo sullo zero Fa la sua comparsa Ma poi Che fine ha fatto? Schiattato? Boh Non viene ripreso in altri capitoli A differenza di Rebecca che purtroppo Poraccia Ci lascia le penne Un po' come tutti alla fine In pochi riescono a Aia Ecco Bene Quindi Con questa sonata Molto sonante No? No 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 Ok E E il primo è andato Il primo di una bella serie Quindi In questo caso Il piano di azione Quale sarà? Questo si chiude Ok Il prossimo Chiaramente È l'uno In questo caso Che conviverà al solito Con quella che è L'antologia del Souls Like Quindi si alternerà Un giorno uno Un giorno l'altra La prossima A questo punto Sarà sull'antologia Per poi continuare A ripetizione Evil Saga Antologia Evil Saga Antologia È In questa maniera E Le mie valutazioni finali Su Resident Evil Zero Alla fine So quelle Ovvero A livello ambientale Background Credo sia uno dei più fighi Tra i classici Uno dei più belli A livello di trama Lascia tanta desiderare Molto sul fantasy Ma addirittura Con questo personaggio Un po' Uscito da Cazzo ne so Veramente da Final Fantasy Ho Doppia gestione Particolare Doppia gestione Veramente particolare Questa Sto doppio personaggio La mancanza Della cassa oggetti Il rampino Che è un dito Nell'ano Per praticamente Tre quarti di gioco Non è un brutto gioco Assolutamente Non è un brutto gioco È un buonissimo Resident Evil Di brutti Ce ne sono Di brutti Ce ne sono Purtroppo E questo Non posso considerarlo Come uno di quelli E ok E ok Ci sta Ecco Non è uno di quelli Che magari Mi giocherei Più e più volte Come che ne so Con il Magari con Con l'uno Con il quattro Effettivamente Quelli sì Quelli sì Ecco Però Però va bene Dai Quindi Detto questo In ogni caso Ehm Cosa stavo pensando Non lo so Stavo pensando ad altro Me lo sono scordato Boh vabbè Niente Io Al solito Semplicemente Ringrazio Chi Entra Anche per poco Chi riesce a stare Chi Recupera a parte È difficile È difficile Lo so Però Fa piacere Chi supporta Al di fuori Di Twitch Stesso Comunque L'idea Del concetto Quello che porta avanti E E basta Questo E direi che Ringraziamenti speciali Ecco Capitano a pennello Direi che Va bene Quindi Alla prossima Non so quando sarà Possibilmente Domani stesso Da capire Vediamo in base a come si evolve La La situazione Se c'è È di pomeriggio Comunque Attendete Nel dubbio Comunicazioni In merito Per il resto Da questo meraviglioso Alberello Tose Software E dallo staff Di Capcom E da un Fulmicotone Provato Dall'ultima parte È tutto Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima